Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati per questo appuntamento quotidiano tutti i giorni alle 7.30, noi siamo qui in diretta per mostrarvi i titoli principali dei quotidiani e naturalmente iniziare insieme a voi la prima giornata, insomma la prima parte della giornata, voi davanti a un caffè noi così sfogliando davanti al touchscreen, naturalmente lo facciamo non prima di aver visto però a previsioni del tempo e naturalmente il santo del giorno che lo guardiamo subito, vediamo il santo di oggi sabato 11 novembre e San Martino di Tours, il vescovo famosissimo, San Martino con la K, la parabola di San Martino la conosciamo, il sole è sorto alle 6.57 e tramonterà alle 16.47, allora il tempo, vediamo il tempo di questo fine settimana con una visione anche al lunedì, per oggi sabato vedete il cielo è insomma un po' così così parzialmente nuvoloso, maggiori addensamenti nella mattinata però il sole fa comunque la sua comparsa precipitazioni, non si escludono deboli e isolati fenomeni però nel primo mattino lungo la fascia costiera temperature senza variazioni di rilievo, la giornata di domenica più o meno è sulla stessa impronta di quella di oggi, cielo poco parzialmente nuvoloso, transito di nubi stratificate, un po' di addensamenti più consistenti però a ridosso dei rilievi, nessuna precipitazione e quindi insomma in aumento anche i valori delle temperature. Invece lunedì il tempo come vedete cambia sostanzialmente, compare anche la neve, la simbologia della neve, infatti il limite delle nevicate in abbassamento fino a 500-600 metri, quindi livelli collinari, sparse le precipitazioni anche a carattere di rovescio presenti anche sulla parte nord della regione quindi anche nella nostra provincia. Il cielo quindi sarà prevalentemente nuvoloso con qualche temporanea schiarita, quindi insomma il sole farà un po' capolino tra la pioggia e le nuvole però questo lunedì il fine settimana dovrebbe essere assente da acqua, diciamo così. Allora entriamo subito nelle pagine del Corriere Adriatico, la notizia che è comune a tutti e due i quotidiani è quella di Butungu che appunto niente sconti, niente sconti perché è in carcere per 16 anni, giudizio lampo per il capo del branco degli stupri di Rimini. Sentenza esemplare quindi e poi allarme, borseggiatori in fuga inseguiti e poi arrestati dalla polizia autostradale di Fano, anche cronaca di altro stampo in fondo pagina, minacce coca e debiti, arrestato un albergatore a Pesaro tutto questo. Allora vediamo la pagina, ve le faccio vedere tutte e due insieme che riguardano Butungu e la sua sentenza, niente sconti per la Belva, 16 anni, il pubblico ministero ne aveva chiesti 14, il verdetto è arrivato a 77 giorni dalle violenze di Rimini, il capobranco colpevole per tutti e dieci i capi di imputazione dopo la pena verrà espulso dall'Italia. E ora tocca, l'altra, ve la faccio vedere insieme appunto anche per questo, oltre così nel Corriere a ripercorrere benissimo tutto quello che è stato l'escursus di questa vicenda dall'inizio fino alla sentenza. Dicevo adesso qui nell'altra pagina, la pagina 3 di Pesaro in primo piano, l'articolo parla del fatto che adesso tocca ai tre minorenni andare verso il rinvio a giudizio per giovedì prossimo e atteso un nuovo interrogatorio. Torniamo nelle pagine interne, si parla di economia, fondi anticrisi, turnover e tari, ok ai conti del 2018 raggiunta l'intesa tra sindacati e amministrazione pesarese. E il fatto di cronaca, riportato anche nel lancio di prima pagina, ora vengo da te e ti sparo in bocca, coca e debiti, negoziante minacciato, l'uomo ha chiesto però aiuto alla polizia e per questo è stato arrestato un 46enne gestore di un albergo a Rimini. Si è passati prima alle telefonate, poi ai messaggi su WhatsApp, insomma un escalation di paura e di terrore per questo uomo. Ancora cronaca, ve la faccio leggere, che è riportata nelle pagine che riguardano le Marche, siamo ad Osimo perché ve li facciamo sempre vedere, naturalmente per dare dei segnali di allarme, di attenzione, insomma i furti e i raggiri ai danni degli anziani, dei vecchietti. Questa volta però nel pallottoliere guardie e ladri una pallina in più per i vecchietti, perché guardate qui siamo carabinieri, però la nonna detective incastra i truffatori, arrestati due fratelli che pretendevano dalle vecchiette, soldi e li depredavano, il suo nipote è in caserma, per uscire bisogna pagare, insomma il trucco lo sapete, è abbastanza noto, però insomma questa nonnina, leggete questo articolo perché è molto bello, insomma siamo a Loreto, questa nonnina non si è scoraggiata, anzi è andata ben oltre, quindi insomma un punto a favore dei vecchietti. La pagina di Urbino del Corriere Adriatico, si parla sempre delle notti in centro del giovedì, i residenti zitti, naturalmente Rovini, la città devi pagare, sono molti costretti ad andare ad abitare altrove, non esistono politiche per aiutare le famiglie, continua il viaggio all'interno dei giovedì studenteschi e c'è chi propone addirittura i butta dentro, antirumore, ovvero sì anziché i butta fuori, i butta dentro, quando fanno confusione li portiamo dentro i locali, questa è l'idea per almeno lasciare la strada e la via libera da schiamazzi. Poi si parla di cimiteri, il Camposanto perde i pezzi, preghiamo dentro la rete, protesta per l'attuale stato di Montepolo, ingresso chiuso con una catena. Ancora dalle pagine del Corriere Adriatico andiamo a Fano, andiamo a Fano con un incidente stradale di cui abbiamo fatto vedere le immagini anche ieri nel nostro telegiornale, riportato nelle pagine del Corriere Adriatico, taglia la strada da un Napolo, autocarro distrugge l'auto, i conducenti sono finiti in ospedale e la donna leggermente ferita però è andata in ospedale autonomamente. Poi l'autunno che si racconta con una manifestazione che arriva in questo mese puntualmente, tutti gli anni, da 30 anni a questa parte, una delle manifestazioni storiche della città di Fano è Sapori e Romi d'autunno che è più viva che mai. Quindi domenica 19 e domenica 26 novembre al Codma un centinaio di operatori di eccellenze enogastronomiche della nostra provincia, della nostra regione tutta, saranno lì nel fungo del Codma, compreso anche l'eccellente olio di oliva di quest'anno. Ancora nelle pagine di Fano rinasce la pista di pattinaggio, l'Alma Juventus gestirà l'impianto un tempo al centro di aggregazione giovanile. L'assessore del Bianco dice ci siamo mossi in tempo per l'estate, sarà già tutto pronto. La pista di pattinaggio che la vedete è quella della zona del Lido, eccola qua, qui c'è il ponte, qui c'è il lungomare, il monumento ai caduti, insomma questa è la pista di pattinaggio che tornerà a rivivere questa estate. Nella Valcesano, nella Valcesano c'è cronaca, sfondano e rubano a scuola ladri alla Betti, più danni che bottino, come sempre, quasi sempre, telecamere al Vaglio, siamo a San Lorenzo in campo, amara sorpresa ieri mattina per i bidelli della scuola primaria Lorenzo Bettini, un blitz da un bottino molto magro. Anche il sindaco Davide Dell'Onti ieri mattina ha fatto un sopralluogo nella scuola primaria. E poi c'è cronaca, andiamo a Mondolfo, e caccia agli spacciatori che hanno venduto la droga killer a Davide Mattioli di 36 anni, il giovane trovato morto nella sua abitazione. Ora è caccia al pusher. C'è cronaca naturalmente, come sempre nella Valcesano presi i borseggiatori che andavano in fuga. Siamo a Marotta, scappano sull'A14, ma la polizia stradale li insegue e nascondono 3.000 euro e gioielli nell'auto che avevano rubato poco prima a un'imprenditrice cinese, un'imprenditrice cinese che aveva denunciato però il fatto, dando una descrizione molto dettagliata sia dell'auto che dei ladri. Tavoglio Valconca, le pagine inserite nel Corriere Adriatico, Pappardelle e Tagliatelle, sfida servita tra Proloco, domani inizia a Mondaino, Fossa, Tartufo e Venere. Oggi l'anteprima, appuntamenti imperdibili per gli amanti e i gourmet di questa specialità. E a Senigallia, blitz antidroga nel campus, sballo nascosto nel bagno, blitz dei carabinieri, presenti anche i genitori. Ora non dite che era solo uno, il preside, scusate, il preside ai genitori, rivolge questa considerazione. Ora non dite che era solo uno spinello. Il maggiore Cleto Bucci spiega che non è stata un'operazione di polizia ma un'iniziativa per la prevenzione. E poi coppia di ubriachi litiga nella hall di un albergo, una pattuglia dell'arma dei carabinieri, arriva sul lungomare Marconi. Andiamo nell'altra pagina di Senigallia, c'è un fatto di cronaca poco simpatico, apertura beffa per i disabili in piscina. Michele dice noi non siamo animali, si sfoga un campione della polisportiva Senigallia, l'orario serare e reso impossibile per i ragazzini. L'atleta di 22 anni, i minorenni, potrebbero dover rinunciare al pasto e non avere quindi le forze per naturalmente nuotare, perché per nuotare ce ne vogliono tante di forze. Andiamo nella pagina di apertura del resto del Carlino, anche qui in grande evidenza nella fotonotizia, 16 anni al Capobranco, stupri di Rimini, tribunale condanna Butungu il profugo congolese. Anche qui la cronaca, ti arresto, ti ammazzo e ti minaccio, lo spacciatore parrocchiere che fugge poi a Barcellona. In piedipagina Fano c'è una vite nel piatto della luna di una scuola primaria di Bellocchi. Stupore, i stupri del branco, sentenza di Rimini, bastano due ore e mezza al tribunale per decidere la sentenza. Butungu ascolta a testa bassa. Nella pagina di Fano del resto del Carlino, questa vicenda che è toccata a un'alunna di una scuola primaria di Bellocchi, la minoranza dice un incidente gravissimo che non doveva accadere, per cui ora servono risposte alla messa dell'elementare Tombari, la madre lo denuncia, scattano subito i controlli dell'Asur. La cronaca, anche qui, due ventenni arrestati con i gioielli e 3.000 euro in contanti, il frontale due feriti, uno è grave, siamo appunto in via Mattei e poi arrivano anche le scuse dell'Asur alla mamma di Alessandro, un errore commesso per eccesso di zelo. La difesa del medico Marco Monaldi, il cui nome compare in calcia alla lettera ricevuta dalla mamma, dice che non dipende da noi l'aggiornamento dei dati vaccinali. E poi questo fine settimana al palazzetto di Fano, una due giorni di judo, tante persone che accompagnano oltre 500 atleti sono previste nella città di Fano, l'evento da tutte le marche per 28 società coinvolte. L'ultima pagina che vi faccio vedere è quella di Urbino, dove si parla di un fatto che riguarda una studentessa universitaria dimenticata dall'Ateneo, studentessa in sedia a rotelle, attende da più di un mese e mezzo l'assegnazione di un assistente. Non l'ascoltano, se va avanti così, dice lei, malinconica e anche un po' amareggiata, dovrò mollare l'aiuto dei familiari. Non posso chiamarli tre volte al giorno per ogni spostamento. L'associazione Agora si sta mobilitando per lei. Bene, questa era l'ultima pagina, finisce qui la segnastampa del sabato, l'ultima della settimana, che tornerà naturalmente e puntualmente lunedì mattina alle 7.30 qui su Fanotv, canale 17, visibile in tutte le marche. Grazie e un saluto anche a tutti coloro che ci seguono nelle repliche della mattinata e anche quella delle 13.30. Buon fine settimana a tutti voi! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!